un saluto a tutti bentornati in questo nuovo video oggi vi farò vedere come scaricare delle canzoni in mp3 in alta qualità senza installare nessuna applicazione sul vostro device android allora la guida funziona anche per i computer sia mac che linux che windows basta andare sul video che ci interessa in questo caso noi metteremo rocco ant e analisa giusto per fare un tentativo eccoci qua eccolo qua copiamo il link della canzone e andiamo ad aprire il sito che troverete in descrizione ci apparirà eventuali pubblicità e chiudiamo ci apparirà questa schiammata andiamo a incollare il testo e scegliamo la qualità che vogliamo e il formato adesso facciamo start e vedete che sta convertendo il video ecco che l'ha convertito andiamo su download e ci scaricherà la canzone in mp3 ecco che c'è la scaricata vedete questa guida è puro scopo illustrativo non voglio nessun modo agevolare la pirateria e questo è tutto se vi è piaciuta questa guida lasciate un like e iscrivetevi al mio canale